Cancellare le ultime due sconfitte, soprattutto cancellare l'approccio alla partita simile a quella avuto due sabati fa al Biondi contro Lavellino. La Virtus Lanciano si è rimessa in carreggiata dopo la restituzione di tre punti sentenziata dalla Corte Federale d'Appello, ma non basta. Ora, al resto dovrà provvedere la squadra di Maragliulo, che non deve commettere però l'errore di pensare che i tre punti di sabato sono automaticamente in cascina. Basta pensare anche a quelli che sono i precedenti tra le due squadre. Dalle 2006 ad oggi abbondano i pareggi, ben 11, a fronte di appena due vittorie a testa. In Serie B l'unico successo Frentano risale al 2014, 0-1 al Liberati con una rete di Mammarella. Al Biondi invece l'ultima vittoria risale al novembre 2008, in prima divisione, quando la Virtus Lanciano di Eusebio Di Francesco ebbe la meglio sulle fere con due reti segnate dopo il novantesimo da Bolic e Colussi. Al Lanciano nelle tre partite giocate in cadetteria negli anni scorsi è sempre finita con lo stesso punteggio, 1-1. Ma alla Virtus servono i tre punti e non serve neanche considerare come alla squadra di Breda mancheranno due pezzi da 90, come l'ex Vitale e il fantasista Falletti. Regali non se ne fanno, nessuno li ha fatti finora in queste ultime giornate di campionato. Il tecnico Breda quasi certamente dovrà rinunciare all'infortunato Zanon, probabili Valient a sinistra, Santa Croce a destra, col rientro al centro di Meccariello. Davanti Sicuri Furlan e Ceravolo, da verificare l'altro ex Grossi e Coppola che non sono al top. Sul fronte Virtus si è allenato l'attaccante Marilungo che stringerà i denti per essere della partita a sostegno di Ferrari. Mancherà Aquilanti per l'infortunio alla coscia rimediato domenica scorsa, tornerà Amenta che farà coppia con Rigione. Squalificato Bacinovic, Maragliuro dovrà decidere se dare ancora fiducia ad un Vitale apparso appannato nelle ultime uscite o lanciare per la prima volta come titolare Giandonato. I tre punti sono d'obbligo per ipotecare la salvezza o addirittura centrarla in caso di una serie di risultati dagli altri campi particolarmente favorevole.